L'ultimo episodio nell'Aretino risale allo scorso agosto, quando a Bibiena, un 39enne, aveva aggredito l'autista di un autobus. Per scongiurare il peggio, erano dovuti intervenire i carabinieri, un caso che aveva fatto scalpore ma che purtroppo non è isolato. La polizia ferroviaria ha infatti registrato da gennaio-agosto 2019 35 casi di aggressione fisica o verbale. La regione toscana ha così deciso di investire quasi un milione e mezzo per prevenire situazioni di questo genere a bordo di treni e autobus. Per i treni regionali saranno investiti 400.000 euro per rinnovare la convenzione con le forze dell'ordine. Gli agenti potranno viaggiare gratuitamente ma interverranno in caso di necessità. Inoltre è stata sviluppata un'app da Trenitalia grazie alla quale il capotreno potrà inviare una richiesta di intervento agli agenti già sul mezzo, stanziati inoltre per i trasporti ferroviari altri 700.000 euro con cui viene aumentato il personale di assistenza alla clientela dentro le stazioni, servizio che sarà così attivato anche alla stazione di Arezzo. Inoltre verranno incrementati gli addetti alla sicurezza direttamente sui treni che oltre a controllare i biglietti potranno vigilare sul viaggio. Per gli autobus è invece previsto un nuovo progetto di sicurezza che inizierà in fase sperimentale alla fine dell'anno. Saranno installate telecamere sui mezzi, barriere di protezione per tutelare gli autisti e saliranno a bordo addetti alla vigilanza. Il personale di viaggio infine sarà formato per imparare a gestire situazioni potenzialmente aggressive.